bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e sto parlando veloce perché stiamo facendo ragazzi la missione della settimana numero 5 siamo a sponde del saccheggio dobbiamo ballare balliamo ragazzi balliamo 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 tutti e quattro dobbiamo ballare dobbiamo attivare la la cosa vogliono ballare come vedete ragazzi balla con gli altri per far alzare la strovosfera è stata completata ragazzi vi faccio vedere dov'è gg per z mike hyfer gg per alessandro 15605 e gg per xx lord 17 ragazzi come vedete molto semplice basta passare di qua dove ci sono le fabbriche di sponde del saccheggio una delle due contiene da qualche giorno la disco beh ragazzi questo era questo ragazzi era un video informativo della di una delle nuove sfide che dobbiamo fare per la settimana 5 spero che vi sia piaciuto se riescono ad ammazzarmi io vado di potenza vi ringrazio tantissimo per averlo guardato e noi ci vediamo in live ciao